Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie. La la la, la la la. Ohhohohohohohohohohohohohohohohoho Ohhohoh. Mmm trud́lo ma...s친... Tuuuu c sharper ma bank... Opa Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 . a tutti. 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 . . a tutti. a tutti. . . . . . . a tutti. . a tutti. a tutti. . 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 il tuo parlamento non funziona bene o il suo microfono penso sia il suo microfono penso sia il suo microfono il che non funziona bene quindi penso sia quello colo i città il tuo e io no la whole city wants summer to dance yeah sure and don't cover como los kirchneristas para no volver a verlos más A chi si è riuscita Sì 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 Sì, il ragazzo, questo ragazzo è spettacolo, quindi mi piacere non filmare a questo ragazzo. Penso che sono bene. Penso che sono bene. Sì, questa è la stessa parte come sempre, è il parco principale, il parco principale di questa città. Quindi tutto, se ci sono più persone, dovrebbe essere più persone qui. È dove tutti si chiedono. Quindi, questo è il mio lavoro che arrivano qui. Non mi piace quando ho fatto la città. Io sempre ho questa città, è vero. No, non è così freddo. Probabilmente è come... Grazie. No, è 10 gradi di celsius. 10 gradi di celsius. 10 gradi di celsius. 10 gradi di celsius. Ma non sento che sia 10 gradi di celsius. No, è vento in Argentina. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Non vendono. Non vendono. In questa città non vendono. Quindi non vedo. Allora, dove posso farlo. La sola cibo di cibo di cibo di cibo di cibo di cibo di Cibo è il Corone Sanders. Cibo di cibo di cibo di cibo di cibo di cibo di cibo. Ma non lo abbiamo qui. Poi usare la cibo di cibo di cibo di cibo di cibo di cibo di cibo. rectangular solo con laIA e bellissima sang paid per la beide dric Marco. Cibo di cibo. Le dimenticato. no questo è il show, non è il mio sto facendo solo un contenit gratis un contenit gratis no, no, non sto a singare con lui e non ho capito come a singare cambiare mi corregir lo che mi corre la pena show her the real scene and show her the sicko she does show her the sicko she does what the hell show her the itinerary sound sound un appar show her the same Ciao Ciao Hold on, I'm sending a message on Instagram Sleep Sleep Your voice is like Michael Jackson I wish I wish I wish it was Like Michael Jackson Especially Like Michael Jackson when he was a kid I think Penso che a Michael Jackson quando ero un figlio, probabilmente è più meglio la voce che quando ero adulto. Sì, spero. Sì, spero. Sì, spero che ti muero in mezzo. Sì, spero che ti muero in mezzo. Come è questo? Sì, spero che i nostri amici. Sì, spero che i nostri amici. Sì, spero che i nostri amici. Sì, sono le cani. Sono le cani molto popolari. Sì, questo è come Uruguay. È un canale di Uruguay. Non è Argentina, ma è di Uruguay. È un canale di Uruguay. Non è Argentina. È di Uruguay. Sì, spero che i nessuna nuceğiz. Sì, spero che ti muero a la correta loop a noi. Sì, è lei non è traumatic di nulla però pensi che penso che non ci sono nulla è stimolata, e e le muero al mio piede blab-blab-blab Grazie a tutti. 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 I can't remember. Yeah, I like Maná. But I like the old songs. I like the old songs on Maná. The classic songs on Maná. I like the old songs on Maná. I like the old songs on Maná. Yeah, the old songs on Maná. Yeah, the old songs are really good. I like the old songs. I like the old songs on Maná. I like the old songs on Maná. By the way, my birthday is in 26 days. And I like the old songs on Maná. And I like the old songs on Maná. 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 And I like the old songs on Maná. I like the old songs on Maná. And I like the old songs on Maná. Non mi ricordo di chi era il cantante, non mi ricordo, non mi ricordo di non mi ricordo. Non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo. Non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo. Non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo. Non mi ricordo, non mi ricordo. Non mi ricordo, non mi ricordo, non mi ricordo. 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 Non mi ricordo, ma sembra bene. Non mi ricordo, non mi ricordo. Non mi ricordo, non mi ricordo. Sì, non c'è Pampani. I'm going to go to the post office and get a package from Japan. But a lot of stuff, snacks and another stuff that I got in this city, in my city. I need to go pick it up at the post office, so I'll start my birthday earlier. No, that's not the one from Relit. The one from Relit, probably I'll get it in two weeks, because it already arrived in Argentina, but I still can't declare all the stuff at the custom. So, I need to wait until I can declare it, and after that, I'm going to get it at home. Or I had to go pick it up like this one tomorrow. It's another. It's another that I bought from a personal shopper in Japan. In Instagram. I have a personal shopper in Instagram. It's a group of people that they do a live streaming on Instagram, and they go to different stores and you can buy. They charge a little bit more, but it's good. If you don't have anyone in Japan, that's the good way to get stuff. You have to pay a little bit more, but it's a good way to get stuff. And they're good. They're actually good. And they send it fast. If you wanted to send it fast, you buy all the stuff you want. And you say, ah, next week, can you send it next week? And they will send it next week. It's like that. Yeah, it's really cool. Yeah, but it's not easy to find those stuff. But somehow from one Instagrammer, like recommended these people. And then I got to know that. Look at this. You can't send that kind of food, sadly. Sadly, you can't send. Let's let him play one more song and let's go. Let's go around. And after that, we go and get a choripane. Which French fries. I have never heard this song. I have never heard this song. And it's a good thing. Some people didn't even find a story. It's never heard this song. Even if it's a great song. And they're going to talk to you. What you know? I love you. And that's all I love you too. And you love you. Some people don't even hear me. I love you. All I love you. As you go, I love you. I love you. Oh, questa canzone è buona, questa canzone è buona, ah, vedo cosa è questa canzone, questa è la canzone Ulises Bueno. Credo che sia così, il nome del sole è Nome Sueltes, credo, non lo so, ma lo so, la canzone è Ulises Bueno, è da questa provincia, dalla stessa provincia dove vivo, ma vive nella capitale di questa provincia. La provincia, la capitale di Córdoba. La botella del sole, la borsa è S辛iguale. come vi rio tan infeliz Gabriella ora ripetite quando lo che le dici a Gabriella ahaha che ragazzi, da un momento, danza come vi a fare un bel piano come vi a fare un po' di spettura oh ok come vi a fare un giorno No me sueltes porque vuelo, no me quieras porque giro a me Un dia a me vi a ser contigo, che tu a mi, la idea va a caer No me sueltes porque vuelo, no me quieras porque giro a me Que la vida es por tu, se ha escondido, quiero ir a un palazzo frio No me sueltes, no me sueltes, no me sueltes, no puedes comprare tiempo, no me sueltes Vamos a ver que es la siguiente canción Vamos a ver la siguiente canción Dicen que para ti, mi amigo, dijeron, y vean que me miran Oh, esta es una buena canción Esta es la misma persona, pero es el hermano de ese hombre Es el hermano, pero murió, murió en 19... en 20... en 2002 creo que murió Como de un accidente, en un crash No, el que antes de este Pero este es también una buena canción Una buena canción Sì, questo è di Rodrigo, il cantante è Rodrigo, un cantante famoso cantante dell'Argentina. Sì, credo che è morto nel 2002 o 2001, sì, è il ragazzo del altro, Ulises Bueno è il ragazzo del Dio Rodrigo, quindi la musica è nella famiglia, sono due musicisti, benvenuti a Sorrent Trumpet, benvenuti a mio amore. Sì, credo che. 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 Sì. Sì, credo che. 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 Grazie a tutti. 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 So... Yeah. Yeah, kind of like that. Yeah, kind of like that. Yeah, yeah. 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 Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Sì, ovviamente mi piace il rizzo con mayo, ma non lo so molto molto, perché sono in una dieta, e non è buona per la dieta, il rizzo è come carboidrato, quindi non lo so, ma non lo so, ma in una giornata, come oggi, potrei farlo con mayo. Sì, ovviamente non lo so, ma non lo so, ma non lo so. Sì, ovviamente non lo so, ma non lo so, ma non lo so. Sì, spero che tutto va bene per voi, Bottle Head Heart Amifreda Vibes, Bottle Head Heart Amifreda Vibes. Sì, ovviamente non lo so, ma non lo so, ma non lo so, ma non lo so. Sì, credo che non ha un batterio. Sì, guarda. 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 per andare a lavorare la mia macchina per andare a lavorare o per fare la tua macchina lavorare e cosa succede nel chat? questa macchina è già aperta quindi devi ripare la tua macchina oh questo succede una macchina che devi spendere molto dinero aspettate, aspettate magari posso vedere cosa c'è qui vedo cosa c'è qui vedo cosa c'è qui vedo cosa c'è qui vedo cosa c'è qui non è prima vedo cosa c'è qui vedo cosa c'è qui vedo cosa c'è qui vedo cosa c'è qui Grazie a tutti. I'm in the world myself, it's just taking a long time, a lot of stuff, a lot of stuff, I'm doing EA new, ah I see, but that's good, you save some money like that, so I lost. I lost two more kilograms, my diet and exercise working well. Let's go, it's my cheat day today, so I can eat what I want. I haven't eaten anything like, yeah, anything in like more than two weeks, in more than two weeks I think. So let's go, I'm gonna eat a choripan with some french fries, let's go now. Yes, I've been doing really well. And if I lose two more, I need to lose two more kilograms to have the same weight as November last year. And I can do it, I'm gonna do it. Yeah, choripan con papitas, yes. So I keep it up, it's hard work, but consistency is key, indeed. Thank you so much, thank you, well. I miss the choripan machine, where? Choripan machine. What the hell? What the hell? Grazie a tutti. 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 They are... Because... They are $6. So... Yeah... such a... ... 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 ...... ...... ...... ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... Ok, ho capito. Grazie per la visione, di nuovo. qui c'è l'invito qui c'è l'invito l'invito non vedo che hanno una tavola e una tavola ma potrei chiedere si può sentire la macchina ah, questo è quello che hai detto la macchina l'invito 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 la macchina l'invito 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 Ehi, qui ria. Hola. Si. C'è una mese? Si. Si. In vitro, in vitro . O! O. How are we? I love the sound, here. How? I love this sound, yeah. It says that the chairs... This is what it says. Aspetta che in salsetti Aspetta che sulle le per gli salsetti D'un passo che la piscina e la piscina non sono permesso niente questa Ma va spazierendo La proprietà Oggi devono le per l'indici Perché hanno un passo e la piscina Ha ha ha, mi sembrava anche per me Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. 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 Sì, sì. 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 Grazie a tutti. Now we have the french fries and we have the choripan. We have the choripan as always with mayo, mostard, chimichurri, kriocha sauce and garlic sauce. Everything. It's good. Thank you, thank you. Itadakimasu. Thank you, thank you. And I cut the Sprite. Grazie Sampai Itadakimasu Sampai Is it good? Sampai I frizzano. I frizzano. I frizzano un po' di stigione. I frizzano. I frizzano solo fuori da frizzano. The fries You can see the steam We have some runners behind me Some runners Sì, è buono! Grazie mille! Grazie mille! Sì, è un bel gioco! È un bel gioco! È un bel gioco! Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. il bambangano grazie 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 choripan FFTW choripan for the win always always choripan for the win let the choripan come and french fries choripan for the win always always for the win no choripan no life yeah exactly but I can't eat it every time I can't eat it but when I eat it definitely I can eat once every two weeks at least once one time and 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 yeah for the win french fries are always good you have to say the king and choripan haha the king and choripan haha so an and now my are my 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 Grazie. Grazie. Mah, ma, 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 ma. Thinking about this a leftover pizza, oh, that's so good. I think, for me, I think the pizza, the day after when it's cold, it's really good. It takes more flavor. Buon appetito! Buon appetito! Chicken pizza, that sounds really good They're welcome! Chicken pizza, that sounds really good You're welcome! You're welcome! You're welcome! You're welcome! I'm happy! I'm happy! I'm happy! Oh yeah, c'è un po' qui. 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 E' un livello, no. E' un po' di più, sì. Sì, è stato molto piccolo, ha parlato dei fratelli. Sì, non è piaciuto solo il maio, non è piaciuto solo il maio. Il fratelli fratelli non è piaciuto, non è piaciuto il potato. e questo è vero è vero è vero e questo solo 4 dollari tutto credo 4 dollari 4 dollari 4 dollari yes 4 dollari 4 dollari 4 dollari 4 dollari 4 dollari perché 4 dollari mi credo so help prepare a sit down levai ok my friend thank you so much for the support thank you so much get a good get a good dinner but after this I'm gonna end I'm gonna end the strain after this sauce but probably I'll do an unboxing unboxing in the strain tomorrow well I'm not unboxing but showing everything the stuff I got from Japan on my first box I'll probably do it tomorrow in the afternoon I think so good behavior better behavior my viewers are good good people if you knew how much how much of trash people that are in in kick there's so many so many trash people in in kick which is pretty decent hey welcome Christopher which is pretty decent the chat but in kick it's literally so trash so many trash people yeah it is in general it's trash yeah it is in general it's so good it's a nice and it's I'd say it's a good like so thank you that's your my well I don't know it's it's a weird but it's a bad ma è un po' di sottile no, magari o io le traccio di Twitch non lo so magari ii, Colby, mi piace a te, i chori so, i chori pat no, magari un giorno un giorno fare un stream non lo so, perché non ho i modi I know there's so much trash I'm eating Belgian fries with mayo It's not French, it's Belgian, Belgian fries The dog left, it's no longer here the dog Tossy people got me in the river, it's not good, yeah, indeed Yes, it's cold here Actually, my fries are missing I bet, I bet And to make it Argentinian fries, we will have to put the chimichurri on the fries Go on to the fries And that's pretty much the hamstring Which might make it? I think I can get the salmon The salmon a little bit Maybe I can use a salmon No, it's too much I can eat my salmon I can eat my salmon Grazie a tutti. Oh, that sounds really good. Sounds really good for me. Oh, that sounds really good. 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 No, I still have a lot. No, and I still have a lot. Half of the chili pan, I think. Oh, that sounds really good. Oh, that sounds really good. I'm great. How are you? Eva Christie. Welcome, welcome. Let's see you. Look at the french fries with a chorizo sandwich. Sprite. Sprite. Here we go. 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 Grazie a tutti. It is so good. But the fries are too much. It's a lot of fries. Give me the chills. I don't know why. Even though I am a ghost, it still gives me the chills. I don't know why. Grazie a tutti. 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 No problem. Grazie a tutti. 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 No. Grazie a tutti. 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 Grazie, grazie, Tobia. Grazie, 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 grazie. Grazie, grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.